Farmaci scontati ma soprattutto cure mediche immediate ed esenti dal pagamento del ticket. Queste le promesse che un noto ortopedico ortonese di 68 anni avrebbe fatto ai suoi pazienti fedeli che avrebbero accettato di acquistare i medicinali presso la parafarmacia del figlio. Il medico in servizio presso un presidio ospedaliero della provincia di Chieti finito nel mirino degli inquirenti è stato sospeso dall'esercizio della sua professione medica per dieci mesi dopo l'emissione di un provvedimento interdittivo da parte del GIP del Tribunale di Chieti Isabella Maria Allieri. Il provvedimento è stato notificato al professionista dai carabinieri del comando provinciale di Chieti unitamente ai colleghi del Nassabruzzo di Pescara. Il reato contestato al professionista è quello di abuso d'ufficio. Il PM che ha coordinato le indagini è Maria Domenica Ponziani. Ha ricevuto l'avviso di garanzia e successivamente a questa data abbiamo fatto altre certamenti che appunto hanno confermato che l'attività continuava. Successivamente è stato interrogato dal GIP e anche in questo caso nonostante l'interrogatorio abbiamo accertato che l'attività continuava. Continuiamo ancora a inviare i pazienti presso la parafarmacica del figlio. Abbiamo potuto acquisire i referti e soprattutto gli scontrini rilasciati della parafarmacica. Sapete bene che gli scontrini essendoci la possibilità di poter essere scaricati quindi il cittadino li conserva e li abbiamo acquisiti quasi tutti. Poi c'è stato il provvedimento del giudice di sospensione.